Il personale della Polizia di Stato appartenente alla squadra anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia procedeva alla denuncia di due persone straniere resisi responsabili del reato di truffa perpetrato attraverso un attacco informatico del tipo Man in the Middle. Un commerciante della zona denunciava di aver effettuato erroneamente tre bonifici in quanto indotto in errore dei gnoti che avevano alterato i codici IBAN riportati in fatture inviate per email da alcuni clienti. Il denunciante aveva eseguito tre bonifici sui codici IBAN presenti nelle fatture ricevute sull'email aziendale dando percetta l'autenticità dei dati riportati. Soltanto successivamente dopo essere stato sollecitato al pagamento dei creditori verificava che sulle fatture pervenute erano stati modificati i codici IBAN inducendolo così eseguiti i bonifici sui conti correnti che non corrispondevano ai reali destinatari ma a coloro i quali avevano organizzato la truffa nei suoi confronti. Inoltre l'utente aveva subito un attacco informatico per cui qualcuno aveva alterato ritrasmettendo in tempo reale le email intercorse fra lui i creditori che credevano di comunicare direttamente fra loro. I bonifici venivano dirottati su codici IBAN riconducibili ai truffatori identificati in un uomo ed una donna, entrambi di nazionalità rumena che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di truffe ed accesso abusivo al sistema informatico. I bonifici venivano dirottati su codici IBAN. I bonifici venivano dirottati su codici IBAN.